Musica Minuti finali decisivi verrebbe da dire in questo ultimo turno, almeno in quest'ultimo turno del calcio dilettantistico a livello regionale per quanto riguarda le formazioni trapanesi. Ben trovate ad un nuovo appuntamento con Linea Ditte, quindi cominciamo con il giro dei campi a partire dall'eccellenza perché l'Accademia trova il suo secondo successo di filo, quindi funziona la cura Vincenzo Melillo battuto a 2-0 l'Aspra, il gol siglati da Marco Campanella e Simone Guaiana nel finale. Il turno si era aperto con lo 0-0 di venerdì tra Sciacca e Folgore e Castelvetrano, quindi ottimo punto per i rossoneri. 0-0 anche quello tra Geraci e Castellammare. Castellammare adesso raggiunto al terzo posto dal Mazzara 46 che ha vinto 2-1 contro l'Atletic Club Palermo, i mazzaresi sono tornati ai tre punti dopo sette turni senza vittoria in gol Murania ed Erbini. Per quanto riguarda invece il Fulgatore sconfitta in pieno recupero contro il Profavara a segno con Pietro Marino, tra l'altro un ex prodotto del settore giovanile del Trapani e la Nissa evita la sconfitta sempre nei minuti finali contro il Don Carlo Misilmeri. Poi seconda sconfitta consecutiva per il Mazzara che cade 2-0 contro il Marineo. Situazione di classifica, andiamo a vedere cosa succede in eccellenza perché sono quattro adesso i punti di distacco tra Nissa e Profavara. E poi al terzo posto, come detto, Castellammare, Mazzara 46 a 39 punti e poi a completare la griglia dei play-off il Castelbuono a 37. Scendendo poi ancora più giù la Folgore ottiene un buon punto anche se sta avvicinandosi l'Accademia Trapani a 23 punti. E poi giù in fondo a 17 il Fulgatore in compagnia con l'Aspra e poi il Mazzara ultimo a 16 punti. Ci spostiamo in promozione perché prosegue il momento d'oro del San Vito che va a vincere in casa 4-1 contro la Giardinellese che si era portata in vantaggio. Poi gol della rimonta al 35esimo con Rosone che ha fatto per l'appunto l'1-1 e poi nella ripresa il gol del sorpasso siglato da Forconi. E poi la doppietta a cavallo tra il 66esimo e il 77esimo da parte di Pirrotta. Cade l'Alba Alcamo 1-0 contro il Bagheria. Stesso punteggio per il Marsala che perde sempre nei minuti finali, a proposito di minuti finali fatali, 1-0 contro il Partini Caudace. Si ferma però il San Giorgio Piana 2-2 contro il Cus Palermo. Classifica andando a ribadire che il San Vito si trova in vetta con una gara in più però. 42 punti e 39 c'è il San Giorgio Piana. Momentaneamente un po' distaccato dalla griglia playoff il Marsala a 33 punti e poi l'Alba Alcamo rischia di restare nelle zone calde della classifica anche se attualmente fuori dalla griglia playoff ha 23 punti. Attenzione però a quelli che sono gli incroci della prossima settimana perché il San Vito sarà ospite della Parmonval al terzo posto. Poi l'Alcamo riceverà il San Giorgio Piana e al Lombardo Angotta il Marsala ospiterà il Bagheria. Quindi può essere uno spunto per scoprire nuovi andamenti nel girone A di promozione. Scendiamo in prima categoria perché il Regina Mundi sembra sempre più proiettato alla promozione. Addirittura 7 i gol sul Primavera Marsala. Il primo tempo era finito 1-0 poi ha preso il via lo show da parte dei padroni di casa. Subito dopo c'è l'Alcamo 1928 che rifila addirittura 5 reti al Belice Sport. Invece il derby tra Valderice e Custonacci è proprio dei neroverdi. Grazie alla doppietta di Nicola Culcasi poi in mezzo il gol di Provenzano. La rete invece della bandiera per i Custonaccesi è stata messa a segno da Fabian Nieto. Addirittura 9 i gol del Palermo Calcio Popolare sul campo dell'Alcamo 1929. Invece la ventesima giornata si era aperto con il 2-2 casalingo del Salemi contro il Renzo Lopiccolo Terrasini. E quindi situazione di classifica con il Regina Mundi a 50 punti. Poi a meno 8 c'è l'Alcamo 1928. Il Valderice a 40. Diciamo una situazione che va sempre più delineandosi a meno di clamorosi stravolgimenti in questo finale di stagione. E poi Belice Sport a 32, ben più distaccato il Salemi a 24. Attenzione poi sempre al Custonacci che non sta di certo vivendo un periodo semplice. Quindi questa la situazione dall'eccellenza alla prima categoria. Chiaramente noi torniamo la settimana prossima sempre con Linea Ditta.